Salve, sono Gianluca Mucchetti, responsabile supply chain di JFRAN, ho portato la mia esperienza del mercato cinese e delle opportunità che questo mi ha dato modo di conoscere. Il mercato cinese si caratterizza per grande velocità e flessibilità nella supply chain e credo che questi siano due aspetti su cui anche qui nel nostro mercato locale sia opportuno lavorare e migliorare.